Il punto di partenza di una buona progettazione didattica è sempre costituito dalla definizione dei risultati d'apprendimento attesi e dalla macro strategia di valutazione che ci permette di osservarli. Il metodo Smart Learning Design si propone a valle di questa fase e suggerisce di selezionare gli eventi di apprendimento utili al raggiungimento dei risultati d'apprendimento per poi scegliere la modalità con cui concretizzarli, con quali strumenti o metodi, se valutati o meno e coerentemente a questa il set didattico più adatto in presenza, online sincrono, o lasciato all'autonomia dello studente. Di fronte alla notevole complessità e varietà dei contesti che possiamo incontrare nella pratica didattica, abbiamo pensato che potesse essere utile definire dei modelli di riferimento e di applicazione del metodo Smart Learning Design, SLD, che provino ad integrare le variabili principali in una logica coerente, creando una sorta di parco scenico, di set di riferimento, che poi potrete declinare in base alle richieste delle differenti discipline e dell'approccio pedagogico preferito. A questo scopo abbiamo provato a individuare tre principali set didattici. Il set frontale a bassa interattività, il set ad alta interattività e il set hands-on collaborativo, che possono essere di ispirazione per la progettazione di un intero corso o anche di un modulo. Questi set fanno riferimento a diverse combinazioni di quattro dimensioni principali. La numerosità degli studenti, il livello atteso di interazioni tra docenti e studenti e tra studenti e studenti, le attrezzature e contenuti digitali di supporto disponibili, il grado di flessibilità degli arredi e degli spazi. Il primo elemento che prendiamo in considerazione nella definizione dei modelli di riferimento è il numero di studenti. Nei set che analizzeremo ci limiteremo però ad individuare due tipologie di classi tipiche del contesto universitario. La classe medio-piccola, con un numero massimo di 60-80 partecipanti, e la classe grande, con partecipanti che vanno dagli 80 ai 150-200 e oltre. Il secondo elemento che consideriamo per la costruzione dei nostri modelli è il livello e il tipo di interazione. Facciamo riferimento a tre dinamiche di interazione differenti. Una in cui l'interattività è principalmente tra il docente e i singoli studenti. Una in cui aumenta il livello di interazione tra docenti e studenti e si aggiungono anche delle interazioni tra gli studenti, a coppie o in gruppi. Infine una situazione nella quale l'interattività principale è tra gli studenti, che collaborano alla creazione e manipolazione dei contenuti, mentre il ruolo del docente è più di guida o di facilitatore. C'è poi un terzo elemento che è utile tenere presente. Gli strumenti e contenuti digitali che abbiamo a disposizione a supporto della comunicazione e dell'interazione. In quest'ottica possiamo identificare tre macro-categorie di strumenti e di supporti digitali, quelli che abbiamo definito strumenti di base. Strumenti di web conference come Zoom, Teams, WebEx, Big Blue Button, eccetera, attrezzature d'aula, hardware e software per la gestione della classe estesa e il learning management system come Moodle, Edmodo, Blackboard, eccetera, nel quale possiamo attivare spazi di supporto per i corsi, per condividere i materiali, le registrazioni, le comunicazioni organizzative o le consegne. Strumenti a supporto dell'interazione, a partire dagli student response systems per il lancio e la gestione di quiz e attività veloci durante il momento d'aula, come V-Club, CAUT, Socrative, eccetera, o lavagne collaborative online come Miro o Mural, oppure quelli che possono servire per la produzione e la trasformazione collaborativa di contenuti e gli strumenti per l'annotazione collaborativa di testi, video, podcast o per attività di peer review, ma anche ambienti di realtà virtuale aumentata o strumenti generativi basati sull'intelligenza artificiale. E infine abbiamo i contenuti digitali, i MOOC e le Open Educational Resources da integrare nelle attività d'aula per lo studio e l'approfondimento individuale o a supporto della raccolta di contenuti a bassa interattività. Infine non dobbiamo dimenticare l'importanza del grado di flessibilità dello spazio e degli arredi. Da questo punto di vista possiamo articolare gli spazi didattici in spazi rigidi caratterizzati da sedute e banchi non spostabili e spesso anche da pavimentazione a gradoni, spazi semiflessibili caratterizzati da cattedra, sedute e banchi non fissati a terra, ma spostabili con una certa difficoltà a causa del peso o dell'assenza di rotelle e a volte anche per la scarsità dello spazio libero dagli arredi. E infine gli spazi flessibili con una pavimentazione piana, arredati con banchi e sedute a rotelle e sufficiente spazio per riconfigurare agevolmente l'aula.